L'autore, attraverso le pagine del suo libro, racconta un territorio salentino lontano dallo stereotipo di quanti lo vivono come terra di vacanza o di passaggio, ma attraverso l'esperienza di quanti lo respirano tutti i giorni con le sue virtù, ma anche con tanti difetti e problemi che lo caratterizzano. Non ultima in questo senso la piaga dell'assenza di lavoro, sempre presente sullo sfondo. Buona la cornice di pubblico per una presentazione che ha permesso agli intervenuti di interagire con lo scrittore, invitato ad illustrare il contenuto della sua opera dalla padrona di casa, Anna Maria Papa, che del romanzo ha firmato anche la prefazione. Io la preghiera che vi faccio di diffondere questo testo, naturalmente, qualora vi piacesse, è rivolta proprio in questo senso.